Buon packaging a tutti! Oggi vi raccontiamo qualche cosa sui pallet in plastica. Risulta essere un momento particolarmente appropriato per fare una valutazione su questo tipo di prodotto, in quanto la forte carenza del legname sul mercato mondiale ha portato a costi economici esorbitanti del classico pallet in legno. Il pallet in plastica risulta economico, ecologico, riutilizzabile, lavabile, impilabile, esportabile, ha grandissime caratteristiche di tenuta meccanica. Questo ci permette di poterlo utilizzare sia nell'ambiente dell'industria ma anche nell'ambiente alimentare e non solo. I formati disponibili sono 80 x 60, 60 x 40, 80 x 120 leggero, 80 x 120 pesante e 100 x 120. Per qualsiasi informazione contatta BB Packaging. Questo è quello che facciamo con passione tutti i giorni. Soluzioni nel mondo del packaging. Rimanete in ballo con noi!